ciao a tutti benvenuti alla segna stampa di scazzo moderato ultimo video dell'anno e sarà un video forse un po lungo perché c'è una notizia di cui vi voglio parlare ma prima faccio un paio di considerazioni su alcune cose che ho vissuto in italia diciamo che secondo me vale la pena di approfondire un attimo la prima è un avvertimento diciamo di stare attenti a un certo tipo di truffe che fra l'altro c'è la stessa identica truffa la fanno anche a dubai e scoperto che la fanno anche in italia io sono arrivato in italia avevo un paio di cose che vuol di cui volevo liberarmi e le ho messe in vendita su un una di quelle piattaforme dove puoi vendere le cose usate ok fra l'altro adesso da non molto credo sia una novità del 2022 facebook stesso c'è una cosa che si chiama facebook market dove praticamente puoi vendere la tua roba online metti gli annunci metti le foto e puoi vendere molto bene qual è il problema che le piattaforme online come ce ne sono varie adesso in Italia mi viene in mente ad esempio subito o c'è un'altra che si chiama chi gigi facebook market eccetera sono infestate di truffatori e come dicevo succede uguale uguale anche dubai qual è la truffa che fanno che quando tu metti un oggetto questa gente in vendita questa gente ti contatta dicendo sono molto interessato a questa cosa che hai messo qualsiasi essa sia e poi ti dicono guarda non ho tempo di passare a prenderlo direttamente ti mando il corriere ti faccio un bonifico oppure ti mando il corriere con i soldi già dal corriere così nel momento del che tu gli dai la cosa lui ti paga e oppure dammi il tuo conto paypal ti pago via paypal eccetera sono tutte truffe loro fingono di pagarti perché la maggior perché o non poi non ti pagano già di partenza oppure ci sono dei metodi che servono per garantire la persona che fa l'acquisto da non essere truffata perché uno dice magari mi compro un fornetto a microonde poi gli arriva la scatola vuota o con dentro il non so il cartongesso ok quindi questi questi sistemi che servono per garantire l'acquirente che quindi poi può bloccare il pagamento nel caso in cui qualcosa non funziona vengono usati da questi truffatori i quali ti dicono sì sì pago con questa roba qui poi in realtà non ti pagano e come lo so molto semplicemente perché quando questa gente poi dici no guarda io faccio solamente a mano se vuoi te lo tengo da parte puoi passare anche fra una settimana quando ti pare spariscono tutti perché una truffa la fanno a dubai e ho scoperto che la fanno molto anche in italia seconda cosa sempre legato alla mia permanenza in italia quando sono arrivato un carissimo amico psicologo a qualche anno più di me di roma psicologo vi ho abitato anche due anni in roma quindi insomma al tempo ci frequentavamo molto psicologo fra l'altro bravo cioè quindi più grande di me è uno insomma che fa la professione da un bel po di tempo molto stimato a due studi ok mi fa ah dai sì sì che bello che sei in italia sentiamoci vediamoci se passo in romagna ti chiamo gli dice ok poi mi fa guarda già che ci sei sto facendo un sondaggio una ricerca per gli psicologi molto spesso fanno delle ricerche facendo domande sul comportamento umano per fare delle statistiche è normale lo fanno è studiare la statistica di come reagisce la mente delle persone è una delle cose principali che servono come strumento agli psicologi e io dico sì sì guarda non c'è problema tanto tu in italia il tempo libero se l'ho se hai una cosa da fare online mi mandi il link e io ti faccio questa cosa rispondendo alle domande mi manda il link mi manda il link e quindi inizia a dare un pochino le tue cose ti chiedono l'età ti chiedono la professione e poi ti chiede il sesso allora c'è la finestrella io apro c'era maschio femmina non binario io chiudo la finestrella chiudo la finestra di window e gli stivo su whatsapp guarda caro mi dispiace tanto io una un'indagine statistica in cui tu mi scrivi maschio femmina non binario non la faccio non la faccio molto semplice e lui si mette a ridere mi fa e lo so un po così però adesso io detto no ascolta una cosa tu a sta roba qui fra l'altro stiamo parlando di una persona che è un psicologo bravissimo eccetera ed è sempre stato schierato guardate dove vanno le a sinistra ok la mia sinistra ovviamente voi nello schermo magari vi sembra a destra ma la mia sinistra ok quindi sempre stato progressista sempre stato lo psicologo quindi proprio quello che capisce che perdona buonista proprio core d'oro ok core d'oro core d'oro mi fa guarda ti dico la verità a livello professionale secondo me quelle è gente che ha dei problemi e andrebbe curata ma siccome le indagini le statistiche eccetera comunque poi passano al vaglio anche delle commissioni mediche regionali eccetera per essere pubblicate e così via mi è già successo che ho trovato gente che mi ha fatto questioni mi ha dato delle rogne solo perché io non avevo dato la scelta non binario fra i vari fra le caselline maschio fra il sesso dove devi scegliere il sesso se io non ammetto non binario ho dei problemi quindi lui anche se non ci crede per una questione di professionale non è neanche di professionalità di tenersi il lavoro fondamentalmente siccome ha già visto che butta male perché evidentemente chi è comanda ha già deciso una narrativa anche se completamente antiscientifica se è completamente campata per aria lui si adegua ma io capisco anche come uno che fa da 25 anni lo psicologo poveretto dice se qui mi fanno fuori cosa vado a fare a più di 50 anni più che lo psicologo io non so fare altro e quindi mettono un binario abbasso la testa se mi chiederanno cosa ne penso dirò assolutamente sì bisogna assolutamente anche se poi quando gli amici gli fanno questione e gli dicono guarda che io le tue robe con scritto non binario e le tue indagini statistiche non ci partecipo mi dispiace ma è una stronzata non ci proprio non ci penso neanche loro ti dicono si è ragione non ci credo nemmeno io ma purtroppo mi sono dovuto piegare all'imposizione dall'alto questo è il livello ok in italia e di ed imposizione dall'alto in campo medico mi sembra di vedere che in italia ce ne sono state parecchie negli ultimi anni ora andiamo alla notizia notiziona quello che vedete sullo schermo si chiama andrew tate ok è un ex combattente di mma martial mixed martial arts ok arti marziali miste che abbastanza famoso perché ha fatto anche il grande fratello inghilterra è stato buttato fuori perché aveva fatto delle affermazioni sessiste e quindi l'hanno buttato fuori dal grande fratello giustamente che non puoi fare affermazioni sessiste e poi è stato buttato fuori anche da tutti i social media tutti lui è se andate a giocare su youtube scrivete l'uomo più odiato di in inglese l'uomo più odiato di internet vi vengono fuori i video di lui che spiegano come mai gli sono stati cancellati tutti i profili twitter facebook youtube addirittura lui stesso raccontava intervistato in una televisione che anche uber gli ha cancellato il profilo uber che è una società di taxi a lui non lo porta pensate che li vero siamo arrivati quindi una persona terribile pericolosissima ora c'è stata già una querelle una sequenza di battutacce da una parte dall'altra fra lui e la grettina nazionale l'angioletto quindi il diavolo sessista imbruttito buttato via tutti buttato fuori da tutti i profili social eccetera e dall'altra parte la fidanzatina della sinistra mondiale greta thunberg che oltre a essere una sacra una maria addolorata intoccabile perché perché tutte le varie spunte di cui di cui si parla ogni tanto no giovane e la sinistra come dicevamo proprio i giovani per per definizione secondo la sinistra i giovani sono portatori di una verità di una verità superiore non chi magari ha esperienza di vita vera no chi ha 18 anni e si e no esce di casa da quattro anni ok quindi chi ha quattro anni di vita vera la sa più lunga secondo la sinistra di chi magari ne ha 30 questa questa è la capacità di 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 afferrare la realtà che ha il progressismo moderno ma non solo è anche super ecologista perché è la reginetta dell'ecologismo mondiale ma non solo è anche per sua stessa definizione portatrice di autismo e dovrebbe avere lei dice di avere la sindrome di aspergia no si sa bene cioè non capisco bene quale sia il suo autismo visto che l'ho sentita parlare sei in grado di interagire con qualsiasi persona vorrebbe ma comunque a tutte quelle spunte quindi proprio è meravigliosa cioè anche la disabilità cosa vuoi di più dalla vita cosa vuole di più la sinistra da una icona che non sia anche in un certo modo di sale è fantastico bene quindi sappiamo benissimo che greta è super ecologista e scatta la litigata fra i due come scatta perché è in utilità ad un certo punto gli scrive su twitter hello greta tunberg ciao greta tunberg io ho 33 macchine la mia bugatti 8 è un 8 mila ok le mie due ferrari sono due 6500 e questo è solo l'inizio se mi dai il tuo indirizzo email così ti posso mandare la lista completa delle mie delle mie macchine inclusiva poi quelle di tutte le emissioni di co2 che poi fanno e quindi io sono quindi diciamo la una un po presa in giro per dire della co2 eccetera e lei gli risponde cosa per cui fra l'altro è stata incensata ma staremo a vedere yes please certo 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 grazie fallo pure illuminami e scrivi una mail a small dick energy at get a life ora tradotto small dick energy vuol dire energia dei c***i piccoli chiocciola fatti una vita quindi diciamo fatti una battuta come dire tu stai sublimando con tutti i macchinoni perché hai il c***o piccolo e su questa battuta al di là di chi abbia ragione dei due anche di di quello che vi possa stare più simpatico se vi piace di più greta se vi piace più androiterite eccetera racchiude un mondo intero perché come avete visto io per dire c***o ho dovuto censurare perché altrimenti rischio di essere bloccato perché ormai siamo un livello tale di ossessione per qualsiasi parola sopra le righe che i social ci mettono un secondo a bloccarti ma lei ha scritto questa roba il 28 il 28 di dicembre per essere precisi alle 3 e ha preso 3,4 milioni di mi piace 500 mila condivisioni ed è stata citata 107 mila volte quindi fatemi capire da oggi forse prendere in giro una persona per i suoi attributi fisici è diventato lecito cioè io posso dire per esempio o non sono una persona magari famosa perché tanto io alla fine non mi fico ho così pochi follower che probabilmente potrei anche godere di una certa libertà ma una persona molto famosa non so un presentatore in prima serata di fox news o il direttore di un giornale di destra tipo il direttore del giornale tipo il direttore di libro tipo il direttore della verità potrebbero dire che greta thunberg è incazzata col mondo perché le t***e o perché bruttina io non credo non credo se loro lo facessero o se io maschio bianco occidentale eterosessuale mi permettesse di dire di fare delle pattute sulle parti intime sui genitali di greta thunberg o di qualsiasi altra donna di questo pianeta verrei raso al suolo da internet mi cancellerebbero tutti i profili probabilmente se fossi in europa dove l'isteria ha raggiunto livelli insopportabili potrei anche perdere il lavoro adesso in medio oriente magari mi salvo magari mia moglie se sente che io faccio battute del genere su santa teresa greta thunberg andrebbe in tribunale a chiedere il divorzio che gli verrebbe concesso immediatamente perché non puoi accettare uno che fa battute sugli organi sessuali femminili sei un sessista come andrew tit che è stato buttato fuori dal grande fratello perché è un sessista invece la madonna immacolata della sinistra mondiale ragazzina con la sindrome di asperger ecologista le può dire tranquillamente a un uomo tu hai piccolo ecco e qual è la reazione tre milioni e mezzo di like il suo post è ancora lì tutti i suoi profili social sono ancora lì com'è sta storia è quello che vi dico sempre è la riflessione finale di questo 2022 ci sono cittadini di serie b e ci sono i cittadini di serie a questo vale nella vita di tutti i giorni e vale ancora di più nella vita online lei ha l'immunità democratica quando hai l'immunità democratica e poi anche infrangere le regole che stessi loro stessi danno come ha fatto lilly gruber quando si metteva a prendere in giro mario giordano per la voce ve lo ricordate il video di lilly gruber che inizia a fare secondo voi chi sono prendeva in giro mario giordano per la sua voce avevo capito che non si possono prendere in giro le persone perlati del loro aspetto fisico che non sono controllabili come la voce ma lilly gruber può come incitare al razzismo se inciti il razzismo di destra vieni cancellato multato penalizzato se un qualsiasi democratico incita il razzismo a sinistra nessuno gli fa niente quanti video guardatevi video vecchi di scazzo moderato quante volte ho fatto vedere gente che incitava al razzismo verso i bianchi è tutta gente che ancora lì non prende multe non viene bloccata non viene bandita non gli vengono cancellati i profili niente tutto bene come va tutto bene quando si parla di non fare le fake news eppure la casa bianca se ne viene fuori dicendo che l'inflazione è colpa della guerra di putin ma l'inflazione ha cominciato a salire dal giorno 1 dell'amministrazione biden e loro tutte le volte cambiavano scusa come mai che social media non hanno mai bloccato la casa bianca non si può fare le fake news vanno bene quando sei della squadra giusta vanno sempre bene quindi ricordatevi magari il 2023 ci farà diventare tutti più furbi e iniziamo a condividere le robe di enrico letta di roberto staviano della murgia condividiamo come se fossero dei matti ci dichiariamo tutti di sinistra diamo due euro al partito democratico per per andare a votare la prossima segretaria ellie schnein schlein schlein non so come si chiama dopodiché iniziamo a dire quello che ci pare ricominciamo a dire le stesse cose ma una volta che abbiamo la patente democratica possiamo fare qualsiasi cosa forse questa è l'unica soluzione per avere un po di pari dignità quello che dovrebbe essere il minimo indispensabile in qualsiasi paese democratico nell'occidente democratico la pari dignità fra gli esseri umani non esiste ce l'ha dimostrato anche a fine anno clita thunberg facendo battute sessiste su un uomo e non subendo nessuna minchia di conseguenza una piccola riflessione di fin anno avevo detto che il video sarebbe stato lungo che come vedete ho mantenuto la mia promessa se vi è piaciuto questo video come sempre vi invito a condividere lo mettete un bel commento qui sotto fatemi sapere voi cosa ne pensate detto questo ci vediamo al prossimo video state informati ciao